Allora ragazzi, per nascere il uccemo facciamo il stranizzo 229 229 dove mi stavano in paridelnica? 229 Ciao! Ciao! Poeta, la stranizzo 229 читiamo l'infinanza della stranizzo l'infinanza della stranizzo l'infinanza della stranizzo l'infinanza della stranizzo che si spiega i giocatori l'infinanza della stranizzo l'infinanza della stranizzo mi è stato fatto ma... l'infinanza l'infinanza Dimitri, hai trovato? Beh, cittai l'infinanza io lavoravo con l'infinanza lavoravo in un'agenzia l'infinanza l'infinanza i vedi che точнее это не с удовольствием, а охотно, потому что, видите, охотно от глагола volere охотно, adete, bene, volentieri с удовольствием будет прямо с удовольствием, con piacere, только, можем сказать так, по-русски чаще принято говорить с удовольствием, чем охотно, по-итальянски наоборот, чаще мы говорим volentieri, чем с удовольствием, поэтому, с точки зрения формы, volentieri это охотно, но с точки зрения использования, частости, использование это с удовольствием, потом, в принципе, никакой разницы нет по значению. Хорошо, нашла эго? 229. Правильно, второе предложение. Ты работал ¿ sabes? Да? Да? sí. – Ты line and Sitza, волentieri, в средней, в бизнесе. Л��, с Rigby? Да? è la persona, qui tiene qui… Bene, c'è mica, Nathalie, la treta, lui, è la pavore e le pe, in un'libreria. Bene, la libreria è un magasin, un magasin, un magasin, in questo modo, è un magasin, in questo modo, è un magasin, no, è un magasin, no, è un magasin, no, è un magasin, bene. Giulia Pažasta? Lavoreremo in volontieri in banca. Bene, bravo, Dimitri? Lavorereste volentieri all'estero. All'estero. Bene, per esempio, per i tic, a seconda tablista, io volevo commentare un'istruzione, che vi stresciate, gli animali su doma, in domenica. Perché? Dare una mano, dat ruco, significa aiutare. Give me your hand. Is this in banliski? Bene, только è stata una razznica. Во-первых, è una razznica, ma una mano, a bezartina frasologista, содержit neapprenditori articoli. Bene. Dare la mano, è doslovno, dat ruco. Bene. Видite, dare una mano qualcuno, dat ruco, com'u-ta. Dati ne padeg, именно perché c'è il glagol dat, e quando c'è il glagol dat, c'è il glagol dat, c'è il glagol dat. Dati ne padeg, именно il glagol, l'alto, davat, è questo qui. Bene. Aiutare, это я уже вам объяснял, значит, помогать, но по-русски здесь совпадает, тоже помогать кому-то. По-итальянски нет, по-итальянски это помогать кого-то, поэтому обратите внимание на разницу. Aiuto mia mamma, no, do, una, mano, a mia mamma. Toi, oba перевodica pomagaju svoje mame. A docio znači? E? A docio znači? Daju. Do, daj, 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 daj. Oba перевodica pomagaju svoje mame, no, glagol aiutare trebuje vinite nipadječa, paetmo nikakova predloga ne stavimo. A konstrucija da dare una mano, no, pa skolika navivajca na glagole davat, trebuje dajte nipadječka pa ruski. daj, 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 daj. No, kako češ, nevajno kako ličo. Tovsi rodo sviđa. Da, imena, imena. Fenjarih semlipravato gruale pulm discovery? No, čanid, daj, daj dođenjeni povrća ste. Eh? Amo šta? OK. Ok, Giulia. Leggeremo volentieri le ultime notizie. Bene, passeremo i nuovi. Dimitri, passeremo, cosa vogliamo leggere? Leggerebbero volentieri un bel libro. Bene, è un buon libro. Vediamo, ora magari è un buon libro. Sotto qui non è fatto. Buon. No. C'è un buon libro. Bene. Questo è un buon libro. Bene. Ok. Lasciaremo. Qual è una cosa? Partire. Ok. Partirei volentieri per il mare. Bene. Poi metti, lasciaremo il predilogio, metteremo una linea. Partire è per. Bene. Ok. Natalia. Partirei per il mare. Sotto? No. 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 che mi diceva? per le vacanze per le Maldive ok ok, questa è stata la razzmina ora cominciamo più seregnere nella prossima stranita 230 vi presenta un'epoca a esprimite dei desideri vi raggiungi gelani nelle situazioni che siedono in le prossime situazioni utilizzando l'espressione indicata sotto uccasani bene questo è un studente è stato usato l'espressione замечare che è che bella giornata che bella con questo tempo che dice dice Natalia uscirei bene bene uscirei bene Natalia Giulia помni che fare è un'epoca bene bene ancora frasilogismo con l'espressione e poi con l'espressione con l'espressione l'espressione è il mi mi fermerei mi fermerei mi fermerei al bar ok prenderei un caffè e e e e prenderei e e bene 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 l'espressione è che ti ti che mi non ci vediamo la la prima a che è questa è una un'inizitelnya forma sucessitelnya. Quindi, che tempo, che c'è qualcosa, 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 bene. Con questo tempo, in questa погоду, Giulia. Tu non è reale? Eh, ovviamente, mi sono tornato in casa, chi vuole. Sì. È un'azistente, è un'azistente, soprattutto qui. Dimitri, potete leggere un libro? Leggerei un libro. Guarderei un film alla tv. Guarderei un film alla tv. Bene, ciao. Natalia? Se leponerei a qualche anni. Bene. E il prossimo. È un film. E il prossimo. E il prossimo. Giulia. Sì? e facciamo niente, e prendiamo. Sto bene. Bene. Ehm... Bene. Che ti commenti questa suona. Guardi. Ehm... Ehm... Telefonerei a qualche amica, come diceva questa ragazza. Ehm... 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 Qualche ha due significati. Qualche è niskolco o qualche o o coita. Ho comprato qualche libro può significare che io ho compito, io ho compito, io ho compito, io ho compito qualche libro, No, ovviamente, per poterminare, che questo è un articolo, noi aggiungiamo un articolo, che e quindi quattro possono propostare. Обратite внимание, что в смысле «нисколька», в отличие от турцкого языка, где потом «нисколька» и потом «множественное число существительного», «нисколька книг», «нисколька подруг», по-итальянски, когда мы ставим «колько», «существительное» ставится в единственное число. «О!» «О!» «Манжато!» «Валке карамелла» «Я!» 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 «Ниско!» «Сколько!» «Конфеток» «Карамелла» — это конфета, в единственное числое. «Ис!» «Синоним», который «капа русский» требует множественное число. «Al-ку-ни», «Al-ку-ни», «Al-ку-ne». «Кал-ке» «Нименеяйца пароду». «Кал-ке карамелла» «Кал-ке-либро», «Видите?» «Нименеяйца». «Ал-ку-ни» «Меняйца», «Al-ку-ни» «Меняйца», «Al-ку-ни» «С-по-си» «Синоногественное числое» «Нименеяйца пароду». «Паэтамо» «О!» «Манжато» «Al-ку-ne» «Caramelle» «Та да, существительное статумное» «О!» «О!» «Летто» «Al-ку-ни» «Лебри» «La варианта» «Italianzi используют оба» «i qualche» «i alcuni» «alcune» «Mh?» «Bene» «Una firmerina per piacere» «Al-ку-ни» «A-di-t'e» «Nas le educi stranezze» «Pagina 231» «Po-ispozovangiu» «Nas le educi varegniu» «Slovo nana caninia» «U-pratine B» «Esprimete dei desideri nelle seguenti situazioni» «Secondo esempio» «Viragite gelania» «В следующих situáziach» «Po-primieru» «Primier» «Situázia» «È una giornata caldissima» «Ocen giarka pagoda» «Gelania» «I napomniu vam» «Vi polnimi, eh» «Ni» «Vale» «Šas recitajem, «pratom» «Daballo coišto» «Vorrei andare in piscina» «Jaha» «Kat je la bisca dit?» «Vase» «Po-cemo niente» «Žarka» «Berrei volentieri una birra» «Vipem bi» «Sudovoste» «Andrei al mare» «In Italia» «Quì a Moskia è un po' difficile» «Ma in Italia» «Gde vi ne bilbi?» «Un'ora e mezza, due ore di macchina» «E siete al mare» «Po-cemo niente» «Però dàji siete a bocci dien» «E se vi chaccio» «Vasmojnosti» «Este» «Visca» 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 «Cosnosti» «Visca» «Visca» «N perché questo non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma non è possibile. Non è possibile così tempo. Nel momento è possibile usposta per direzione per direzione non è possibile. Questo è tipo non è possibile? No, non è possibile. E come ho detto, questo è stato più difficile. Bene, bene. A un'espёзiva diranno per la fine come Ithe, Trending per il alc �oses di Dmitry in quel ст好了. E ciò, c'è un passaggio dicять in quella che Dor 선�senza diceva, No, non, non, non. Per la fine situazione Non è possibile. No, non, non. 一次. Non bisogna scegliere, non bisogna scegliere, bisogna scegliere, bisogna scegliere, bisogna scegliere, bisogna scegliere. Situazione è una situazione, molti lavori all'interno. E cosa voleva? Cosa vuole? Cosa vuole? Ma... non ci faremo. Cosa vuole... Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa, non ci faremo. Un minuto, un minuto. no, qui bisogna fare lavoro non qua la luce e io le potevo gare non, la lavorazione di fare работать bispo fa va insomma lavorare dinner perché tu lavorare io lavoro bispo fa ah, tu mi dovrei dire? no, tu mi direi ma il rai è il futuro io sono così, l'agore... è l'agore... ma è l'agore, ma è l'agore... io lavoravo dopo, ma... ti lavoravo dopo dopo, ma è l'agore... l'agore fino a tardi l'agore fino a tardi bene, hai una parola? grazie io vorrei dire... io vorrei che ho dovuto vedere la tv no? per la lavoro bisogna... poter... 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 sp sp... no, sp sp sp... non, sp 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 sp, poi c'èanza la moglie... c'è... sp 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 sp... paziente bene collega Collega... Collega, per russo e per italianza. E' una persona di nuovo? Chiedere Chiederei Sì, pomoš Autare Auto Auto A mio collega Bé Quals'è qu'o Meinung harò uno con i zeigen? Prima,olas, bras... Beh Inoltre il russico dove dovrebbe essere il predologo U e poi l'avimentazione, per l'italiano, dovrebbe essere l'avimentazione. Come direi a un collega, come direi aiuto a un collega. Questo è solo il quale chiedere, se c'è il quale chiedere a qualcuno di fare qualcosa da posto. Quindi chiedo all'insegnante di chiudere la porta. Il quale è necessario di definire, perché già ho spiegato il quale. Io mi chiedo che il professore di cercare la porta. Perchiamo il quale il quale il quale il quale. Perchiamo il quale il quale spiegato. No, chiedo all'insegnante il permesso di chiudere la porta. Non si chiede l'aposizione, non si chiede l'aposizione. A. Quando nosiamo a chiunque, D. Quando nosiamo a chiunque, D. Quando nosiamo a chiunque, D. A. Quando nosiamo a chiunque, D. Quando nosiamo a chiunque, D. Quando nosiamo a chiunque, D. A. Quando nosiamo a chiunque, D. Alzarmi? 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 Ceres 5 minuti? Prego 3-5 Fra 5? Ceres 5 Ceres 5 Ceres 5 Ceres 5 5 minuti 5 minuti Vorrei alzarmi fra 5 minuti Ceres 5 Svegliarsi Svegliarsi Bene Vorrei alzarmi 3-5 minuti 5 minuti Bene Bene Giulia Cosa 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 Puro No Puro che vi ho cercato Tu avrei chiesto il buderente da un'ora In più Un'ora in più Beh, ma è possibile Юlia, quando si chi ti ha il buderente è possibile? Ah, tutto pronto Questo è una strattazione Ah, non si può sapere Vabbè, questo è già un po' di soluzione, non è già un po' di soluzione. Allora, vorrei dormire un'ora in più. Dormirei. Dormirei un'ora in più. Dormirei un'ora in più. Bene. Irina. Ma vi pilla di coffee. Berei un caffè. Berei un caffè.